Ho scoperto a Sansepolcro un San Sebastiano di Piero della Francesca, bello oltre il possibile. Ad attribuire la fresqua alla mano Pierfrancescana è stato il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. Da parte dell'amministrazione siamo contenti che questa visibilità abbia riportato al centro dell'attenzione Piero e su questo ci saranno sicuramente storici dell'arte, studiosi che prenderanno posizione e che stimoleremo anche noi. L'opera in questione è un dipinto ritraente appunto Sansebastiano conservato all'interno del Museo Civico di Sansepolcro che ospita il politico della misericordia e la resurrezione e proviene dalla piccola badia di Gricignano. Innanzitutto vorrei precisare rispetto a quanto è stato scritto nell'articolo di Vittorio Sgarbi che quest'opera è sempre stata all'interno del nostro museo, quindi non era nei depositi ma era nel circuito museale visibile al pubblico, chiunque entrasse al museo aveva la possibilità di vederla e questo da oltre 20 anni. Così come vorrei anche dire che è un'opera che è sempre stata dal museo stesso presentata come un'opera Pierfrancescana nel senso che comunque è stato fin dall'inizio individuato questo ambito e questa influenza. È vero, nessuno fino ad oggi aveva attribuito così direttamente e così chiaramente l'opera come autografa di Piero della Francesca. Noi siamo qua, aspettiamo gli studiosi come abbiamo sempre fatto, l'opera è ben conservata, fa parte, ripeto, del circuito museale. Per far comprendere a chi ci ascolta, visto che non possiamo essere tutti storici dell'arte, abbiamo cercato di capire quali siano gli elementi che hanno portato Vittorio Sgarbi a questa attribuzione. Che potrebbero essere gli elementi riconducibili a Piero? Gli elementi riconducibili a Piero sono quelli che vedono tutti, cioè il fatto che ci sia un'edicola, come in alcune figure isolate, tra cui quelle stesse che sono qui al museo, come per esempio la maddalena del Duomo di Arezzo, eccetera. Poi sono i tratti del volto, i ricciolini, alcune caratteristiche che richiamano il San Giuliano. Poi per esempio la postura che è vicina all'Ercole o la figura analoga di santo del politico della misericordia, che infatti anche recentemente è stata accostata a questo affresco. Non ultimo si potrebbe citare quell'elemento a paliotto che c'è appunto dietro la figura, che richiama in qualche misura dal punto di vista compositivo, per esempio, il sarcofago del Cristo risorto.